I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scalti dei figli della luce. Parola del Signore. L'aspetto principale che questa parabola, che abbiamo ascoltato da un geno, vuole risaltare, non è tanto quello dell'onestà o disonestà dell'amministratore, non è nemmeno quello dell'uso della ricreazione. L'aspetto principale è quella della scattezza. Cioè l'amministratore, messo di fronte, è meglio di non avere più ospettive, il suo futuro, non ha ascoltato. Possivamente quello che poteva realizzare ha accettato, ha inventato una soluzione. E appena è previsto questa soluzione, ha previsto come poteva calarsela, ha realizzato. E non ha aspettato tanto, non ha avuto esitazione. Ecco, Gesù diceva queste cose agli ascoltatori di allora. Ma possiamo essere ascoltatori oggi con queste stesse parole. Allora, questo ascoltatore, il virtuito della presenza di Gesù, rappresentava un fatto decisivo per la vita del popolo di tre, e per la rosa, e per la rosa, ma non sapeva come deciderci. E allora Gesù, con questa parabola, dice come mai siete così solleciti e tempestivi nel cercare di risolvere le situazioni che si presentano per gli affari, gli affetti, per la salute, eccetera. Ma siete così poco tempestivi di fronte alla cosa decisiva che vi crede è la vostra salvezza. Fertilite da lucere, con il generale della salvezza, con le esperienze, in modo per mostrare la propria vita di l'attività, la visione di l'attività, spesso si dimostra a tutti i strati. Il vostro rassegnato di niente, ma sì, senza plancio. Il rapporto di una specie di proporre invece di assumersi la responsabilità di vivere in mangiare in questo mondo, delle situazioni che mi fanno di essere pieni in mangiare in queste situazioni.